Da tempo segnaliamo la necessità di un'ampia riforma che metta ordine nella normativa troppo confusa e a volte arretrata che riguarda la ristorazione e più in generale chi somministra cibi nel fuoricasa. Soggetto prioritario dovrebbe essere il Ministero della Salute che, pur disponibile a parole, si è però finora sottratto ad un impegno concreto. E intanto, fra sofisticazioni e improvvisazione fra i fornelli e i frigoriferi, la cronaca registra quasi quotidianamente sequestri o interventi dei NAS che non sempre riescono a cogliere realmente la complessità e la difficoltà di un settore a cui un po' più di rigore e certezza non potrebbe che fare bene per lavorare meglio e con più serenità. Fra pezze rattoppi, con non poche storture come la progressiva liberalizzazione per chi gestisce un bar e i vincoli invece sempre più pesanti per la ristorazione. Anche se entrambi possono proporre lo stesso menu, a livello normativo siamo ormai al caos. Lo dimostrano i sempre più frequenti casi di contestazioni, multe e sanzioni sull'utilizzo di alimenti congelati. Le recenti disavventure di Carlo Cracco ne sono un esempio. Eppure, questi episodi non sono che la punta di un iceberg che si è via via ingigantito a seguito delle nuove tecniche di cottura e di conservazione, dell'utilizzo di additivi vietati in modo ridicolo e sconclusionato ma di fatto ammessi per decreto, della non sempre assoluta certezza riguardo l'atrociabilità degli alimenti utilizzati e per non parlare dell'improvvisazione di molti addetti ai lavori che dimenticano che se il cibo è in stretta relazione con il benessere, lo è anche e soprattutto con la salute. Come dire che la complessa questione della sicurezza alimentare nella ristorazione necessita da tempo di un intervento legislativo di aggiornamento radicale o almeno in via provvisoria di un'interpretazione ministeriale più precisa delle norme in materia, oggi davvero troppo confuse. In attesa che a livello politico si capisca che uno dei settori di maggiore vitalità del turismo italiano ha bisogno di più attenzione per poter lavorare meglio, considerando anche gli aspetti fiscali e previdenziali che non sono certo nel secondario, ancora una volta occorre però fare un po' da sé e cercare di adattarsi al meglio alla situazione cercando di indicare soluzioni all'istituzione e al tempo stesso trovare almeno le giuste modalità per comportarsi senza rischi. Fra le questioni più urgenti da tempo abbiamo indicato quella del pesce crudo che in Italia, complice proprio una regolamentazione contraddittoria, sta diventando una vera emergenza, con rischi troppo trascurati per la salute. Tra i prodotti di dubbia provenienza con rischi di infezioni alimentari e la sempre più larga diffusione di pericolosi parassiti come Anisakis o Opistorkis, è indispensabile che la ristorazione faccia un salto di qualità per garantire un'offerta al di sopra di ogni rischio e ciò senza dimenticare che oltre al prodotto e alla sua conservazione c'è anche un problema di tecniche di lavorazione. Per questo il 29 aprile a Milano, al Politecnico del Commercio, il CAPAC di Milano, insieme al Consorzio Cuochi di Lombardia, Italia a tavola ha organizzato un convegno di aggiornamento con alcuni dei maggiori esperti italiani del settore. Sarà l'occasione perché tecnologi alimentari, funzionari pubblici, ricercatori e ristoratori possono confrontarsi e trovare soluzioni utili per la gestione e magari utili anche a quei politici che volessero davvero occuparsi del settore dopo tante chiacchiere.